Buonasera a tutti, sono Alberto Gardini, uno dei curatori di Pordelone Legge. Ci tenevo a essere qua, mentre sta ancora entrando qualcuno del pubblico, per fare un saluto da parte dei curatori dell'organizzazione di Pordelone Legge, di augurarvi un buon incontro, una buona continuazione, ma soprattutto, e anche per ringraziare Copp, Copp Alleanza, che ci ha permesso di fare questo incontro, ma soprattutto per ringraziare tantissimo l'ospite davvero straordinario di questa sera, che è Giuliano Sangiorgi, presentato da un grandissimo, in una veste in consenso del presentatore Enrico Gagliano. Li faccio entrare Giuliano Sangiorgi e Enrico Gagliano, grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao Enrico. Ecco, l'emozione è tanta, l'emozione è veramente tanta. Giuliano Sangiorgi che viene a Pordenone Legge, fammi fare subito una battuta da professore. Lui è di Nardò, provincia di Lecce. Pordenone Lecce. Ora dovreste cambiare tutti i manifesti, Pordenone Lecce. Cambia tutto. Allora, noi in realtà siamo qua per parlare di un libro e giustamente mi hanno detto per favore parla del libro, però come facciamo? Hai lui, solo l'intro, posso fare solo l'intro, come dire, un intro a modo mio? L'abbiamo scritta prima al bar quando aspettavamo di venirti a prendere. Che cosa hai bevuto? Uno chardonnay. Due. Eccola qua, ve la leggo. Sentiamo, sentiamo. Non possiamo stare solo tre minuti e sarà meraviglioso mentre tutto scorre. Oddio, erano tre secondo me. I bicchieri erano tre di chardonnay. Vai avanti che ti dico qua. Due più la birretta che abbiamo bevuto insieme. Meraviglioso. Mentre tutto scorre, fare un passo indietro. E non lo sei. Sbirciare. Stai strabiombando negli inferi dell'etolo, vai. Vado, vado. Sbirciare nell'immenso. Fra nuvole e lenzuola, parlare d'amore. Amore che torni e duri il tempo di un lento. Una dozzina, caro. Quanto dura il tempo di un lento? Questo libro che siamo qua a presentare stasera a Pordenone Legge. La risposta è doppia. Perché il lento dura un tempo di un lento, ma può durare anche più di una vita. Non solo una vita, più di una vita. La vita di tre personaggi. Luca, poi c'è Gennaro l'America e poi c'è Maria Giulia, la ragazza. La ragazza che tutti ce l'abbiamo avuta, la Maria Giulia. Quella che ti fa conoscere per la prima volta l'amore. Quella che ti fa fare le prime follie. Comunque un po' prete sei stasera. Sì, no, sì. Sempre io in realtà. Cioè, un po' prete omelia, la predica. Siamo già nella fase... No, c'è questo... Afflato. La parola afflato è perfetta. Prete afflato. Perfetto. Beh, tu hai messo dentro a questo libro la parola nicto... Nicto. Che parola era bellissima? Nicto? Nictilopi. Eh, nictilopi, che hai dovuto cercarla... Hai dovuto cercare maestro, dai, su. Eh, guarda, eh, sì. Beh, è una... Tu riesci a vedere, oltre che a guardare, nella notte? No, io sono anche... Sei di o tre per occhio mi mancano, quindi anche di giorno, difficoltà serie. No, io volevo dire, prima di iniziare a parlare di qualsiasi altra cosa, sono molto felice di essere a Pordenone, in questo festival. Ho tanti ricordi belli di amici scrittori, di una compagna scrittrice che è passata qui un po' di tempo fa. Quindi rimaneva un sogno a cui ambivo essere a Pordenone Legge, il fatto che sia arrivato l'invito per me è stato importante. Sono felice, semplicemente, di essere qui stasera e volevo dirlo. Subito così... Ci vuoi subito toccare le corde? Allora, dai, però possiamo... Sì, possiamo parlare dei dodici bicchieri che hai bevuto. Cosa vuoi sapere di questo lento, della sua durata? Quanto può durare veramente un lento? No, questa è una domanda che secondo me ti hanno già fatto e io volevo fartene una più... Cioè, vedi, tipo, quando io incontro due persone che stanno insieme, marito, moglie, fidanzati, così, chiedo sempre come vi siete conosciuti, no? E io credo che le storie, sia la stessa cosa, come una storia d'amore, ci si crea una sorta di colpo di fulmine. Tu quando è che hai avuto il colpo di fulmine per questa storia? Ero a New York, stavo scrivendo Amore che torni, l'album dei Negramaro, il penultimo. Mi ero allontanato un po' dalla band per scelta, ma non dalla band, dalla vita quotidiana, dalla routine. Volevo stare un po' solo lì. Ho scritto, nello stesso giorno in cui ho scritto Amore che torni, ho iniziato le prime 20 pagine del libro, mi sono catapultato di nuovo dopo lo spacciatore di carne, dopo un po' di anni, mi sono ributtato una scrittura, perché mi ero promesso che lo avrei fatto solo nel momento in cui veramente fossi stato ispirato, ispiratissimo. Questo è un privilegio che mi sono concesso e che mi concede tuttora la casa editrice che ha pubblicato i due libri, e spero lo faccia ancora perché c'è un rapporto bellissimo, e cioè in Audi. Cioè pubblico solo quando ho una storia da raccontare che sia ispirata. È successo nel 2017, nello stesso pomeriggio in cui in soli tre minuti, scusate, perdonate l'autocitazione, ma è doverosa, in quei soli tre minuti è nata questa canzone Amore che torni. Così ho visto immediatamente questa storia d'amore e follia fra Luca e Maria Giulia, mentre cantavo la canzone, quindi è anche la figura del padre, Gennaro Lamerica, c'era dentro Amore che torni, c'era tutto un amore che tornava, ma che non mi tornava totalmente, nel senso che non bastavano quei tre minuti della canzone paradossalmente. Scusa per assumere la domanda, tu nello stesso giorno hai praticamente scritto Amore che torni? Sì, è cominciato il tempo di un anno. È cominciato il tempo che... Perché Amore... Sì, ci stai facendo sentire tutti delle merde, diciamocelo perché... No, ma... Guarda che la... Credo che anche tu, insomma, ti seguo e so che fai solo cose ispirate. Ho detto, ho usato la parola privilegio con molta cognizione di causa, mi sento un privilegiato a poter scrivere di narrativa, a pubblicare con una grande casa editrice come Naudi, lo ripeto perché hanno creduto nella mia scrittura con la musica in stand-by, per me era strano, cioè tanti anni fa c'è stato qualcuno che ha creduto in quello che scrivevo e cantavo soprattutto insieme a Negramaro. quando sono arrivati loro, che mi hanno proposto di scrivere, io non ero pronto, non avevo nulla, nel senso... li avrei avvisati quando... Insomma, ho detto... Vi faccio sapere. Vi farò sapere, è strano, no? Ma vi farò sapere quando sarò ispirato. e quindi questa è una fortuna che mi tengo stretta ed è per questo che fra lo spacciatore di carne e il tempo di allento è passato anche un bel po' di tempo, ma lo sapevo e il privilegio sta nel fatto che facendo, passatemi il termine, ma è giusto che sia così, come primo mestiere la musica, come primo sogno, il mio primo sogno è sempre stato quello di avere una band, di cantare, di scrivere. Allora, questo sogno dello scrittore, che comunque volge quasi al prossimo magari terzo libro, al prossimo terzo romando, questo sogno è veramente il sogno del cassetto che rispetto, tutelo e difendo con tutti i denti perché so quanto valga la vita di uno scrittore vivendo, tra l'altro, accanto a una scrittrice come Ilaria, però so che uno scrittore lo fa quotidianamente, lo fa con un senso di regola, cioè c'è una regola in quello che fa, come quasi, forse, ce la metto io in ogni canzone che scrivo pur non sapendola, ma quello è il mio primo sogno, il secondo sogno forse è quello di scrivere ed essendo il primo sogno di molti scrittori, lo rispetto come? Facendolo nel migliore dei modi quando lo posso fare nel migliore dei modi. Questo è il mio rispetto per la narrativa e la letteratura italiana. Io non voglio assolutamente considerarmi alla stregua di quelli scrittori che lavorano tutti i giorni su quello in cui credono. Io lo faccio nella musica e nella narrativa, nella scrittura di romanzi lo faccio con più libertà e paradossalmente con più rispetto. Grazie. Grazie. Allora, quando lo leggerete è un libro che divise in tre parti. La prima si intitola Amore che vieni, la seconda Amore che vai, la terza Amore che torni. E diciamo, la prima parla un po' degli anni Ottanta e è ambientata negli anni Ottanta, la seconda negli anni Zero e l'altra, l'ultima invece, negli anni Dieci. Io, se dovessi fare un riferimento cinematografico per farvi capire cosa incontrerete, perché sono come tre libri in uno, no? Ecco, nel primo libro entrate dritti nel tempo delle mele. Sophie Marceau, è proprio Sophie Marceau. Ma davvero? Perché proprio la prima scena è così e infatti mi permetti... Un po' più terrona, devo dire. Sophie Marceau, diciamo, coi taralli invece che... Con tutto il rispetto per Sophie Marceau. Che comunque... È più terrona la mia versione. Aveva sempre provato a immaginarselo, il primo bacio, Luca. Addirittura avrebbe potuto descriverne la consistenza, pur non avendola mai testata. Ma tanto spesso era andato così in fondo a quel pensiero che ormai gli sembrava potesse combaciare perfettamente con la verità. Una volta, perfino davanti a una bottiglia che girava al centro di un cerchio immaginario, formato da ragazzini e ragazzine, seduti a terra a stretto raggio, sovraeccitati e impauriti per il gioco, si era finto un gran baciatore. Uno impratichito dal tempo, che conosceva tutto di quel gesto off-limits per i suoi coetanei. Mentre la bottiglia roteava inesorabilmente, Luca aveva tremato a lungo, temendo il peggio. Un giro interminabile. Già da questa prima scena, io ho già un sacco di domande, perché... Allora, prima domanda che tutti... Ve la farete tutti quando leggerete. Giuliano Sangiorgi, l'autore di questo libro, il primo bacio lo ha dato col gioco della bottiglia? Io penso che molti di quegli anni siano stati costretti da un gioco a baciare qualcuno. O io mai una volta che la bottiglia facesse il giro giù, neanche zero. Ah, dici che a qualcuno non gli è andata proprio bene? O gli è andata bene? Comunque tu ci hai risposto di sé. Io ho raccontato di un trauma incredibile, cioè essere costretti da bambini, perché poi quello è il passaggio obbligato verso l'adolescenza, no? Almeno così scrivo e così immagino nel romanzo. Essere costretti al bacio credo che sia una delle violenze più grandi che si possa subire o che si possa dare all'altro. Però nel gioco questa violenza assumeva il fascino sia della paura che della voglia del futuro, cioè della voglia di diventare grandi. Allora nel momento in cui succedeva, capitava, succedeva questo bacio fortunato o sfortunato che fosse, a seconda di chi dovessi baciare o chi non dovessi baciare, si passava da, come dire, non credo di aver scritto anche questo, si passava dai giochi in cantina all'amore in soffitta. e si diventava grandi. Cioè il bacio, anche se fosse stato per scherzo, per quella camera buia in cui si entrava per un pegno dovuto a questo gioco della bottiglia, che oggi magari non c'è, ci sarà il gioco del laser emanato da un iPhone che fa svanire, svanire, magari, no? Otticata a pulta verso un'altra dimensione. C'è proprio l'applicazione, la scarichi, il gioco della bottiglia. Sì, l'applicazione, come la chiameremo a questo aspetto? C'è già una... Non mi ricordo il nome, però... C'è già questa cosa... Cioè, mettiti il telefono e lui fa... Vedi? Che boomer. So boomer, eh? O no, figlio di boomer. Siamo, perché c'hai due anni più di me, e meno di me, quindi... Ma perché devi dire data a tutti, per forza? Ma ho solo detto relativamente a me. Quindi i tuoi 27 anni... Poi io ho una seconda domanda, questa è molto più filosofica, esistenzialista, cioè andiamo veramente sul... Però dimmela sempre con lo stesso afflato. Più... Cioè, vado con l'afflato? Parti. Perché lui ha descritto il gioco della bottiglia così, e pubblico, aiutateci, perché qua... La portata? Io pensavo ci fosse vodka lì dentro. C'è. Dopo. In pratica lui descrive il gioco della bottiglia così, no? Che la bottiglia gira, e quando si ferma, mettiamo così, ecco. Fallo, fallo. Ecco. Praticamente la regola, secondo... Però falla a girare un attimo, cioè è una tragedia. Intanto so benissimo che non mi becca a me, perché... Fatti, guarda. Ti ha beccato! No, vedi, ecco qua, questa è la domanda. Sì. Perché il regolamento che trasparla... Non è scritto il regolamento del gioco, però si capisce che è quello. Che se la bottiglia si ferma così, no? Ecco. Significa che la persona che è lì deve baciare la persona che è qui. Sì. O viceversa, cioè... Ma anche voi avete giocato così? Cioè tu dovresti baciare tutti? Calma. Enrico baciare... Mi voglio bene... No, io ero rimasto... Sì, corrispondeva... No, no, nella traiettoria cosa rispondeva. Ma scusa, allora io faccio appugni per mettermi seduto proprio... E quello era anche il gioco. C'era chi faceva appugni. Cioè chi voleva scappare da quel bacio, quindi si allontanava. Ma vedi, si scoprono sempre cose nuove. Se ti piaceva la donna o l'uomo, la donna o l'uomo è una parola grossa, cioè il ragazzo o la ragazza, facevi tutto per capitare su quell'asse cartesiano incredibile. No, perché io ero che la regola è questa, cioè tu la fai girare e se la bottiglia si ferma lì, poi la devi far girare un'altra volta e la persona che viene dopo è quella che deve baciare. Allora, la mia versione... La mia versione... Sì, ho capito. Mo c'è sta regola fondamentale che sia questa e questa, deve essere questa. No, per capire diverse culture. Magari avrò sbagliato in quelle due o tre volte che ho giocato, però no, non ho sbagliato, nel senso che almeno quando giocavamo noi, nella stessa direzione, chi tirava, poi c'era la direzione che corrispondeva ai due estremi. Quindi tu con questo trucchetto sei riuscito a baciare la ragazza che volevi. Se dovesse... No, non capitava spesso. Tante volte mi è capitato di scappare proprio a gambe levate. Sempre con dignità, eh. O fare... O fare come la protagonista che a un certo punto deve baciare un big gym. Esatto. Terza e ultima... Che capitava quel big gym su quest'asse, no? Era una maniera di salvare sia chi non voleva il bacio che chi voleva il bacio in quel momento. E se hai fatto la faccia seria, ok. Terza e ultima su questa, poi ti lascio stare sul bacio. Tu immagino che quando c'erano le feste in spiaggia eri quello che suonava la chitarra, vero? Mi confermi che è l'unico che non limona? Io ho visto... Fa queste espressioni perché non gliel'ho detto le domande prima. Io ho visto Albe da solo. Con sta chitarra del cazzo. E vedevo teste scomparire. Alla fine non c'era nessuno. C'era solo sta Alba fantastica. Io ancora che suonavo i d'orso, Frenzi Natra, Senza Battisti, e Bionde Trecce e gli occhi azzurri. E poi, e poi, e poi, e poi ancora Mina. E ancora, ancora. E poi piano piano... Tutti soddisfatti. E io continuavo a suonare. Ed era mezzogiorno. Sì, però pensa a quante ragazze adesso si staranno dicendo oddio, quella sera là c'era Giuliano che suonava... Secondo me non ce ne sono manco accorti. Ma proprio niente. Uno, ero capellone. Quindi non mi avrebbero riconosciuto dopo tanti anni. Due, come li vedevo indaffarati tutti, dalla scomparsa, insomma, se ne poteva vincere la grande cura con cui andavano avanti nella loro notte fino all'alba e oltre, non credo io fossi un dettaglio importante. Ecco, tutto qui. Va bene, tutto avreste pensato, tranne che dover fare a un certo punto un applauso di incoraggiamento a Giuliano San Giorgi. Un applauso di pietà. Io ho ancora il terrore... Io ho ancora il terrore che a San Siro si possano abbassare tutti ti dico allo stadio e non li vedo più. E ora vanno via. Rimango di nuovo solo e aspetto che facciano... Però, per esempio, il mio sogno rispetto a questa cosa è la mia rivincita e vederli ballare un lento in grandi stadi, in lento. Tu immagina se chiunque, e lo farò quando torneremo a essere normali, diciamo, nei concerti, in tutto quello che sarà la vita normale, vorrò fare questo. Cioè, a un certo punto, scatterà un lento. Chiunque ti sia accanto sarà il tuo compagno o la compagna di ballo. E vorrò vederli tutti di stile tempo... Sì, il tempo delle mele. Perfetto in uno stadio. Cioè, è una cosa che non si fa. In realtà, il desiderio era quello di raccontare un... sia un'epoca, quella del tempo di un lento che non esiste più, ma avevo anche la voglia di raccontare tutta una storia che nasceva dalla sintesi, dalla brevità e dalla rapidità con cui succedeva una cosa semplicissima che però poteva sconvolgere la vita di due ragazzi, delle famiglie intorno. Ora, stiamo parlando di qualcosa che sembra non esserci o non essere possibile. Però, negli anni Ottanta, credo che siano stati gli ultimi colpi di coda di quell'amore folle di cui siamo figli, di cui sono figlio io. Cioè, si era così capace di amare follemente che non si pensava nemmeno a cosa potesse succedere accanto. Questo mi ha sempre affascinato, cioè, mia madre e mio padre sono sposati giovanissimi a 19, 21 anni, non avevano fatto la grande fuitina ma era, nei tempi era qualcosa che succedeva spesso, la fuitina, scappavano di casa e questa cosa sembra non essere nulla, sembrava, magari potesse essere un fenomeno di moda in quegli anni fra le coppie, però era qualcosa che determinava un cambiamento totale inequivocabile e irreversibile delle loro vite di chi scappava, dei ragazzi che erano interessati nella fuga, ma interessato alla fuga era la famiglia, il paese, raccontando questa storia d'amore fra Luca e Maria Giulia e il paese signore del sud nell'84 e poco, si curavano di quello che sarebbe stato tutto quello che era il cambiamento poi da quel giorno in poi. e quindi volevo raccontare mentre ero soltanto figlio e non ero ancora padre nel 2017, volevo ancora raccontare di quanto fossero capaci di amare un tempo anche nella nostra piccola Italia e fossero capaci di amare fino alla follia, un po' alla Kerouac veramente, cioè in maniera disordinatamente ordinata, cioè riuscivano a sconvolgere gli equilibri ma per un nobile intento che è sempre l'amore, non puoi dire niente, l'amore anche qualora dovesse sconvolgere qualsiasi equilibrio intorno, l'amore fa gol in quel senso, raggiunge quello che vuole raggiungere. Allora mi piaceva essere così un osservatore di quell'ultimo amore folle però solo che da quell'amore folle mentre ero figlio un po' nostalgico di mio padre perché mi mancava che era morto, non c'era più da qualche anno poi sono diventato padre durante la scrittura ho cambiato pelle e addirittura sono arrivato a parlare di un altro amore, di un altro tipo d'amore antichissimo che è quello di un padre di un padre come Gennaro e quella è stata la parte più difficile pensavo sarebbe stata la parte più difficile nella scrittura perché mi dovevo avvicinare a un personaggio che non sono io bene o male anche se non sono mai autobiografici romanzi o almeno credo che sia quello che cerca di fare sempre uno scrittore cioè cerca di allontanarsi dai personaggi da tutta quella che è una storia di finzione però poi ci cadi sempre se non altro negli stessi sogni che potrebbe fare un protagonista un personaggio un antagonista cioè ti ritrovi di riflesso in quello che racconti in questo caso a posteriori mi sono accorto comunque di aver parlato anche della mia mutazione generico letteraria in questi anni cioè da figlio sono diventato padre e da quell'amore folle sono passati due ragazzini che a me mi era più diciamo era più vicino al mio modo di raccontare mi sono dovuto ritrovare a parlare di un amore di un anziano padre e mi sono fatto tante domande una volta che è nata mia figlia e quelle domande le ho riversate nel romanzo e sono domande comunque di un padre che vuole sapere se sarà in grado di riconoscere stella fra centinaia di migliaia di stelle anche fra cent'anni se dovessi incontrarla all'improvviso quella è la domanda che mi faccio quotidianamente ma non perché penso che non possa succedere che non ci vedremo più per quarant'anni o trent'anni come è successo in questa storia di finzione ma volevo proprio raccontare di quanto sia profondo l'amore di un padre che potrebbe riconoscere un figlio veramente fra miliardi di persone soltanto attraverso gli occhi perché credo che gli occhi siano un ponte di congiunzione incredibile tra gli esseri umani e me ne sono accorto ancora di più mentre scrivevo il romanzo e avevamo come stasera abbiamo tutti le mascherine e gli occhi ti fanno sembrare tutti noi bellissimi poi magari abbassi la mascherina ci so io sono lillo sono brutto però una volta mia madre ero credo da Mara a raccontare il libro non mi ricordo dove ero comunque in tv con la mascherina la Rai era abbastanza aveva delle regole ferre quindi avevo una mascherina all'intervista e mi ha detto eri bellissimo oggi e grazie perché diceva si vedevano gli occhi ed è vero io mi accorgo che quando vado in giro per strada mi sembra che siamo veramente un'umanità bellissima poi abbassiamo la maschera e siamo abbastanza stronzi no così stavo solo pensando mentre parlavi alla cosa che hai detto prima del lento che farai a San Siro lo farai davvero? pensi di riuscirci? se non è a San Siro perché faremo prima i palazzetti sperando di farli a marzo cioè farai un lento proprio di quelli che la gente balla è lento sì però sarebbe bello veramente ok lentizziamoci cioè chi hai accanto balla no perché stavo pensando ci sarà un calo un'esplosione delle nascite nove mesi dopo non lo so però tu immagina se veramente riusciamo a farlo che sembra una cosa piccola però in un momento in cui non possiamo più toccarci da tanto tempo cioè sfiorarci avere quel rapporto umano e normale umano e normale fatto di di fiato carne e corpo tu immagina se potessimo davvero farlo perché se si potrà fare mi piacerebbe farlo cioè vedere chiunque abbracciarsi a un altro e ballare un lento cioè sembra una cosa antica lo è ma tutto poi torna ad essere nuovo se di mezzo abbiamo tempi così duri e allora perché non riferire alle nuove generazioni quanto quanto è stato bello toccarci amarci fisicamente tutti anche anche in tre minuti di ballo cioè sono successe le cose bellissime in genere non solo a voi ma io ho provato le emozioni che nemmeno un bacio forse mi avrebbe dato o un amore fatto bene cioè il ballo poteva succedere con una sconosciuta e quella sconosciuta me la porto ancora dentro per dire cioè è incredibile però quello che può scaturire dall'armonia dei sensi insieme all'armonia musicale insieme all'armonia di una notte magica sei fottuto ti telefono o no ti telefono o no il dubbio chi sa chi vincerà il dubbio amletico di Gianna Nannini risuonava in un amore che era una camera gas Luca ripercorreva a memoria il numero di telefono di casa di Maria Giulia perché stiamo parlando di un'epoca in cui si chiamava a casa vi ricordate cari boomer come noi che col telefono ti chiudevi col cuscino quando ti sentisse perché Raph gli intimava di mantenere saldo il self control agitandosi lui per primo con un lungo impermeabile nero Luca obbediva e allontanava da sé l'immagine del telefono e cercava di scombinare l'ordine del giro che il suo indice avrebbe dovuto fare per chiamarla Nada invece attaccava senza pudore ricordandogli la natura divina e celestiale di quell'angelo caduto dal cielo Luca si sentì per un istante l'uomo gentile che a guardarlo per lei era quasi uno shock un attimo dopo l'amore era tornato disperato e spasmodico nella voce della cantante e nel cuore di lui Gino Paoli pensò bene di trasferire il cielo in una stanza e Luca era quasi sicuro di sentire suonare un'armonica scusate eh sì perché lui ci porta dentro proprio cioè ci sono i big gym ma c'è anche il postal market ragazzi cioè ritira fuori il postal market ma soprattutto il festival bar lui sta guardando il festival bar ed è credetemi che quando lo leggerete è uno snodo fondamentale della storia perché dal festival bar gli arriva l'idea che lo porterà da Maria Giulia e non so se l'hai fatto apposta ma voi adesso ti faccio vedere che ho studiato i Negramaro sono stati gli ultimi a vincere un festival bar in Italia sì 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 siamo stati gli ultimi dopodiché basta mi hanno detto ah noi in Tegramaro basta più in basso così non si può andare no è stato era un'esperienza abbastanza forte legata all'estate di ognuno di noi fino a quegli anni devo dire che mentre scrivevo mi sono ricordato che con i Negramaro avessimo vinto tempo prima cioè l'ultimo festival bar in realtà era proprio un ricordo a cui ero legato ed era un momento abbastanza profondo almeno per me di legame con la musica sebbene fosse la musica del momento la musica che andava come dire la sentivi spesso in radio era quella che più andava che andava per la maggiore insomma non era soltanto la musica del paese reale cioè c'era tutt'altro ma io ero piccolo e amavo di riflesso Sanremo mi ritrascrivevo i testi di frontella tv quando ero piccolo festival bar lo vivevo sia con con leggerezza che con un'attenzione forse nemmeno si meritava nel senso che era una cosa così leggera che doveva rimanere così il playback sì ma anche il playback invece per me era tutto fondamentale perché legavo ogni canzone come spesso succede e a molti credo succeda non credo ci siano persone che non legano un ricordo a una canzone a un momento musicale credo che ognuno di noi ha una soundtrack nel film della sua vita incredibile e nella mia c'era Miles Davis ma anche festival bar dell'84 e poi ci tenevo a raccontare un po' la musica che attraversava gli anni perché chiaramente geolocalizza molto la scrittura o tempo localizza molto la scrittura ti fa capire e ti trasporta immediatamente per chi ha vissuto quegli anni o quel momento ti trasporta esattamente in quel momento invece lo scrittore credo che possa essere d'aiuto per essere più preciso nel dettaglio dei ricordi o nel dettaglio della storia che vuole raccontare quindi diciamo che ho messo in stand by la musica come sempre per poter scrivere un romanzo o almeno come anche per la seconda volta ho fatto così mi sono allontanato della musica ma lei è così forte che ritorna proprio urlando la sua presenza nella mia vita anche qualora dovessi allontanarmi per scrivere una storia che non è mia perché comunque è una storia di finzione ma che mi ha permesso di attraversare tantissime tematiche cioè tu hai detto bene all'inizio sembra il tempo delle merce c'è un revival di emozioni ti rimanda delle emozioni quasi ancestrali degli anni 80 di chi li ha vissuti io li ho vissuti per esempio di riflesso rispetto ai miei fratelli grazie ai miei fratelli che erano degli anni 80 erano ragazzini negli anni 80 ho vissuto i loro anni 80 io da piccolo ho completamente rapinato i loro ricordi perché essendo nato nel 79 avevo gli anni 90 come anni della mia generazione però amo così tanto i miei fratelli per cui penso di aver vissuto come loro la stessa età anzi ero pure molto furbo perché loro facevano delle cose a 15 anni che io facevo a 8 a 9 capito cioè me la so goduta proprio i miei fratelli non erano liberi di essere adolescenti io ero già libero come un adulto a 10 anni cioè come dire mio fratello ha fatto delle cose a 16 anni che io ho fatto a 10 quindi me la sono goduta sai che me la stai mettendo sul piatto d'argento adesso dimmene una di queste vogliamo sapere ma tipo mio fratello ha aspettato di avere la vespa Salvatore ha avuto la vespa credo i 15 16 anni io a 10 anni avevo la vespa sotto casa per farmi giri così non potevo dirlo perché non ho patente non l'ho detto nel giardino di casa nel giardino con la mascherina è tutto pieno di gomme intorno cioè con mio padre che mi teneva là non è vero però ho fatto delle cose che potevo perché mio fratello i miei fratelli non avrebbero potuto fare all'età mia quindi il terzo fratello il piccolino riesce a rubare un po' di anni ai fratelli più grandi no e quindi mi ha permesso questo romanzo di raccontare sia momenti leggeri che momenti di tensione drammatica addirittura reali come insomma il rapido 904 proprio di quel Natale del 1984 che ha diventa paradossalmente nella voglia di raccontare l'estrema foglia l'estrema razza di questo amore diventa un'occasione parzatemi il termine per questi due innamorati osteggiati dalla famiglia dal paese diventa un'occasione perché succeda qualcosa nella loro vita di irreversibile io mi taccio io pure vedi sì bravo no perché mi ha educato lui sullo spoiler prima in camerino no perché dai c'è anche chi non l'ha letto vero ancora giustamente non volete sapere che l'assassino del maggior tono muoiono tutti tutti muoiono no beh secondo me però aiuta a sapere che a un certo punto le vite di questi ragazzi si vanno a incrociare con la storia con la S minuscola si incrocia con la storia con la S maiuscola la copertina in qualche modo ve lo anticipo vedete questa questa esplosione alle loro spalle centra diciamo questa storia con l'attentato del 22 dicembre 1984 al rapido 904 che causò 16 morti e diversi feriti e fu uno degli ultimi strascichi insomma della stagione delle stragi ecco quindi questa cosa qua vi serve saperle così genericamente perché io per esempio l'ho sbirciata mentre leggevo il libro devo dire che mi ha aiutato mi ha fatto unire curiosità perché come mai questi due che sono lì nel sud si vanno a incrociare con un attentato che è successo invece molto più lontano perché era un treno che partiva proprio nel Natale dell'84 periodo in cui loro due decidono di scappare ed era la strage proprio di quel periodo che insomma ha subito un treno partito da Napoli verso Milano all'altezza di di Firenze chiaramente l'ho trattato con il dovuto rispetto quel momento e con le pinze se ci ho provato nel senso che però volevo estremizzare veramente mi piaceva il fatto che la finzione poi possa attraversare la realtà e in quel caso poi potevo porre l'attenzione su su eventi che sono successi in Italia quello come purtroppo esempio di tantissimi altri di anni di piombo incredibili in cui noi siamo stati assolutamente al centro di questi momenti drammatici di atti terroristici incredibili e magari in questo momento in questi ultimi anni in cui sono successi fuori dall'Italia atti terroristici magari con altri intenti ma sempre hanno colpito l'umanità ho ricordato mentre succedevano che comunque avevamo vissuto anche noi dei momenti molto più da vicino e quando vivi da vicino con le paure forse sei più solidale nei confronti di chi ti sembra sia molto lontano da casa tua in realtà è tutta casa tua e quindi dovresti sentirlo sempre quindi semplicemente ho pensato che quegli anni potevano essere raccontati anche in una storia che attraversa come questa un trentennio ecco è da grazie grazie e da lì dopo questo incrocio con la storia dopo il gioco della bottiglia il gioco del bicchiere c'è la vodka dentro si passa alla seconda parte no dai ero per te ho cercato di stare tranquillo si passa alla seconda parte che è amore che vai anni zero ecco dal tempo delle mele diventa secondo me la ricerca della felicità quello con Will Smith cioè il sogno americano ho rubato tutto io sì no no ci sono andato all'interno del cinema ho rubato volevo dare dei riferimenti no no fai bene tra l'altro citare è giusto perché tutto ritorna come nella musica sono sette le note vabbè più i bemolli e i diesis ma c'è sempre un ritorno si passa sempre da cose importanti soprattutto quando quelle cose importanti sono state così fondamentali da essere ispirazione per altri cioè qualsiasi grande canzone qualsiasi grande film qualsiasi grande opera è ispirata da un'altra grande opera quindi credo che questo sia tra l'altro un grande onore per tutta l'umanità cioè il fatto di essere collegata a se stessa fin dalla notte dei tempi cercando di migliorarsi sempre si ritorna comunque al passato e questo è fondamentale lo dico per le nuove generazioni che sono sicuro guarderanno di nuovo a un'Italia che ha passato tanti anni di grande cultura e che sarà di nuovo un altro punto di riferimento per loro come per me per noi sono stati Lucio Dalla De Andrè De Gregori tutte le band o tutta la grande musica sono sicuro che questo è un corso ricorso da cui non si può proprio scappare però è bello è bello perché mi fa sentire cioè il fatto che tu stia giocando stiamo un po' parlando di questa stia citando queste immagini cinematografiche mi fa sentire bene perché comunque mentre le dici mi fa ricordare di quel film a cui hai pensato sono già due film a cui hai pensato quindi ho capito se ho rubato veramente c'è anche nella terza parte c'è un film ha dato due in un colpo solo quindi sono quattro mi dispiace un ladro matricolato no è che pensavo leggendo la seconda parte la parte insomma in cui diventa sogno americano partire da anzi da sotto zero per arrivare ai grattacieli a un certo punto addirittura Miles Davis il più grande jazzista che tu insieme alla tua band scusa se torno lì però cioè rappresentate un po' quell'idea cioè quando uno vi ascolta sente che c'è qualcuno che è partito proprio da lì ed è andato su tutti e sei tutti e sei siamo partiti da sotto per arrivare sopra e ancora sopra non siamo arrivati siamo terzo piano e quindi non si finisce mai il sogno italiano è un sogno americano ma il sogno anche le cese il sogno cioè di Pordenone il sogno cioè qualsiasi sogno purché sia fatto con ali sporche di terra sarà sempre gigantesco capito cioè sogno con ali sporche di terra Giulia ce la possiamo fare stasera ragazzi c'è staflato che proprio pari sporchi di terra ma nel prossimo libro posso fregartela questa tu hai fregato qua poi ti farò un'intervista io e dirò hai citato bellissima bellissima l'hai scritta veramente comunque ragazzi stiamo messi bellissimo abbiamo bisogno di scrittori veri eccoci qua voi se aprite questo libro prima cosa che trovate è un esergo di Miles Davis che dice non esistono note sbagliate che era una cosa che in realtà lui diceva molto spesso e ho trovato un'altra sua citazione che secondo me questa è perfetta per le quattro parole non esistono note sbagliate ma quest'altra che ti ho trovato che esprime lo stesso concetto secondo me racconta anche un po' della trama del libro Occio eh Occio è un tipico termine leccese quando 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 suonate una nota solo la successiva permetterà di dire se sia stata giusta o sbagliata Miles Davis perché è esattamente quello che succede nel libro c'è una nota che sembra molto 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 sbagliata e poi succede un'altra cosa che fa diventare la nota di prima in qualche modo incredibilmente ti sta sanguinando il noso sei serio? era troppo asforzo era difficile ho fatto un giro era difficile ti stavo credendo ti ho visto no bello no è inchiostro vabbè dimmi che devo dirti l'hai detto tu ah ok quindi è un sì come risposta sì va bene mi sembrava più un apprezzamento che una domanda non lo so posta così ho sbagliato non lo sono preso no no è giusto usciamone ti prego subito allora il sogno americano la Fiat dalla Fiat 127 andiamo alla grande mela no e arriviamo nei grattacieli Miles Davis il nostro personaggio io non lo nomino perché ho paura diventa Blueface diventa chitarrista di Miles Davis sì e poi terza parte a me sembri più Fabio Volo ogni volta te lo dico poi è tuo amico fra l'altro sì sì ma mi piace un sacco Fabio Volo lo so però c'è un problema andiamo avanti più seri perché capito ogni tanto mi ricordo di Fabio assumo la posizione da intellettuale dai per favore certo nella terza parte abbiamo un afflato pasoliniano vero? sicuramente certamente o almeno no no quello che ho cioè pasoliniano è pasoliniano è l'ambizione di descrivere un anziano come ti dicevo prima ero abbastanza sono abbastanza distante da questa figura quindi pensavo sarebbe stato molto difficile scrivere di Gennaro l'America che questo personaggio anziano nei giorni nostri in questo paesino del sud che viene scambiato per decenni per lo scemo del villaggio poi invece dimostrerà che quello che aveva in mente non era per nulla stupido era folle e ambizioso e paradossale come sogno ma alla fine ce la farà e darà ragione a se stesso e quindi non sarà stato il passo del villaggio pensavo che sarebbe stato molto difficile e paradossalmente distaccarmi totalmente mi ha poi portato ad innamorarmi così tanto di quel personaggio che quando stavo per finire la scrittura negli ultimi nelle ultime pagine stavo proprio male perché volevo cioè non mi è mai successo forse nemmeno quello spacciato di carne non mi era successo sapevo come già dall'inizio come sarebbe andato a finire anche per questo quando quel giorno lì di amore che torni ho scritto le prime venti pagine comunque la storia ce l'avevo in testa cioè mi aveva ispirato tutta la storia dall'inizio alla fine in un barlume in un attimo ho avuto questa immagine complessiva di tutta la storia e pensavo che non ne sarei stato capace onestamente perché era dovevo essere troppo distante da me stesso quindi forse avevo poco da raccontare fuori da me fuori di me e invece mi sono accorto che alla fine quello che poi succede con le canzoni sono senza volerlo in maniera inconsapevole un attento osservatore delle vite degli altri tante volte nelle canzoni sembra che io parli di me della mia vita del mio amore di tutto che sia ego riferito no tante volte invece mi sono moltissime volte ho raccontato delle vite degli altri che mi hanno attraversato anche per un istante anche se non fossero state così vicine alla mia vita ti faccio un esempio su tutti cade la pioggia non cantava dimmi a che serve restare ma lilli a che serve restare io non ho mai conosciuto una lilli però in quella notte in cui l'ho scritta mi capita spesso di scrivere di notte e di averne proprio come dire quando arriva una canzone mi si riconosce sto zitto io sono uno che parla tanto evidentemente e in quei giorni in cui sta per arrivare una canzone mi zittisco e quindi chi ormai mi ama e vive accanto a me sa che sta per arrivare un danno buono o cattivo che sia quella notte arrivò cade la pioggia eravamo a Parma a Baganzola dove vivevamo in questa casa comune con tutti i negramar per 7-8 anni abbiamo vissuto lì e abbiamo scritto suonato vissuto mangiato cucinato abbiamo fatto di tutto si chiamava Casa 69 appunto in una notte ho avuto quest'ossessione per questa Lilli e non so perché l'ho scritto l'ho scritto perché altrimenti poi mi succede questa cosa che finché non scrivo quella cosa non riesco a dormire perché mi mi rimbomba nel corpo per tutta la notte e oltre l'indomani io ho cambiato indimmi a che serve restare perché qualcuno mi aveva raccontato che quella notte era morta una ragazza che si chiamava Lilli ne parlavano in molti giornali e io chiaramente non lo sapevo non sto parlando di preveggenza o di doni penso che ci sia qualcosa nella coscienza che non appartenga a un viaggio va avanti e indietro la coscienza nel tempo secondo me quindi capita di attraversare le vite degli altri per fuochi stanti poi è una dannazione questa cosa di poter sentire queste cose perché quando diventano inspiegabili ti arrabbi con te stesso cioè non capisci perché ti succeda non capisci perché tu debba provare quell'emozione in quel momento in cui la scrivi e dopodiché ti senti un deficiente perfetto per tutta una vita quindi insomma l'ultima parte quella basoliniana di cui parli mi fa piacere che insomma anche se intergalattiche distanze abbia citato un gigante però forse poi lì vengono fuori tutte quelle cose che hai nel bagaglio culturale che pensi di averlo lì come le radici che le nascondi più in profondità e te ne dimentichi poi più profonde sono più non le vedi no? e allora pure forse Pasolini era proprio nel dimenticatoio della mia cultura e poi invece ritornano echi di quella magia speri letteraria che non c'entra assolutamente con quella piccola minuta tua però l'eco di quella cosa fa bene comunque a te mentre hai la possibilità di usufruire di grandi penso che succede a tutti quando riesci a trattenere qualcosa di grande che è arrivato dal mondo lo tieni anche per te stesso per poterlo utilizzare nella tua scrittura anche di un ricordo di uno straccetto di carta su cui scrivere penso che ti possa sentire felice di essere arrivato dopo quel grande stesso cioè in modo tale da usufruire di quella bellezza io guardo di là perché una riesco una veloce grazie l'ultimissima è proprio l'ultima è una cosa mia molto personale cioè tecnica come dire perché lui vabbè lo sapete c'ha questa voce che per radio lo accendi capisci subito che è lui che sono il lega amaro e io mi chiedevo come fai scrivendo a creare una voce come fai tu perché non è solo una cosa di dono vero cioè non è solo una cosa che ti è arrivata e tu ce l'hai e fine è una cosa che va c'è un lavoro nella scrittura come si fa a creare una voce nella scrittura io uso una parola che è proprio brutta sia nella scrittura che di canzoni che di letteratura narrativa l'esigenza no però tutti siamo abbiamo la necessità di scrivere chiunque anche quelli che scrivono cattiverie ciniche spietate hanno l'esigenza di dirlo cioè questa esigenza che muove tutte le cose un po' c'è ed è vera però credo che poi di necessità ho fatto virtù anche nel senso io non mi reputo un cantante cioè non ho mai usato la mia voce per cantare delle belle canzoni no no ho usato la mia voce quando ho capito che era la maniera più giusta delle parole che dovevo raccontare cioè tant'è vero che poi quando ho scritto per Mina per Patti Bravo per Celentano per Mengoni per tanti altri ragazzi per tanti scrivevo per un'altra voce ne approfittavo avidamente cioè approfittavo della grande voce di Mina per per un sogno di scrittura ne approfittavo per altri doti di altri di altri interpreti io non mi sento un interprete cioè io mi sento la voce giusta per quelle parole giuste cioè che altrimenti non avrebbero quella quella magari la forza ce l'hanno avuta e ce l'hanno perché è evidente insomma e ringrazio tutti perché sia stata riconosciuta negli anni e grazie prima a Ine Gramaro che hanno deciso di farmi cantare quando io portavo in sala prove dopo Sanremo io portavo i cantanti a fare i provini per dirti quanto vivo la mia voce bene cioè nel senso portavo i cantanti fino credo dopo Sanremo portavo ancora cantanti in sala prove e dicono questo è bravissimo loro sì sì ma ti credo meno male sì sì va bene purtroppo il tempo io avrei altre 12 domande da farti ma qua il tempo è purtroppo scaduto io veramente sono mi sono divertito sai anche io grazie grazie a tutti il tempo di un lento è in Audi ringraziamo anche Coppa Alleanza che ci ha il partner dell'evento io ringrazio Pordenone Legge ringrazio Delico è stato ringrazio tutti voi per questa serata fantastica e spero di potervi abbracciare presto perché mi sono veramente rotto i no come si dice in letteratura si dice Occio ah sono rotto ah Occio non dirlo grazie a tutti e avanziamo un lento da lui a questo punto faccio vi faccio una foto per me posso farvi una foto sì Ehi!